La Puglia Migliore è fatta così. Libera il bene, l'antimafia si fa con le idee. Attraverso un bando aperto ai comuni, la Regione Puglia finanzia progetti di recupero, ristrutturazione e gestione dei beni confiscati alla mafia. A disposizione ci sono 7,5 milioni di euro. Il contributo per ogni progetto arriva fino a 750 mila euro. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Grazie per la visione!